L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama allo 0773 49 36 60. Ariete Giornata serena, la compagnia giusta lieterà allo scorrere delle ore e il tempo sembrerà passare molto velocemente, soprattutto durante la mattinata. Sentirete vicino le persone più care e questo vi darà la voglia di organizzare qualcosa di nuovo. In amore la lontananza fisica verrà compensata da quella mentale. Toro Un pizzico di tristezza, vedrete che la vostra autorità all'interno della famiglia non è riconosciuta da tutti e questo potrebbe procurarvi un dispiacere. Ci penserà la sfera lavorativa a tirarvi su, dato che il vostro impegno sarà determinante per raggiungere un obiettivo. In amore qualche discorso vi apparirà incomprensibile. Gemelli Siete un po' stanchi, nelle ultime settimane per alcuni di voi si sono cavallate una serie di situazioni che vi hanno un po' destabilizzato, ma cercate di tirare sul morale, nulla è irrisolvibile. Quindi cerchiamo di prendere il capo del filo della matassa e con calma tutto si risolverà. Cancro Giornata di scelte importanti, dove verrete messi alla prova da una persona a voi molto vicina. Lasciate la scelta al cuore. In amore cercate di restare coi piedi per terra, sognare è pericoloso. Leone Tempo di novità, vi ritroverete a dovrere affrontare una situazione estrema che vi darà un brivido. In amore cercherete il perdono. Vergine Si prospetta un appuntamento e questo incontro sarà molto importante, perché dal suo andamento dipenderanno alcuni risvolti nell'immediato futuro. State quindi tranquilli e mostrate tutte le vostre qualità senza voler apparire ciò che non siete. In amore una serie di fattori si combinerà in una maniera che non avevate preventivato. Bilancia Sarete protagonisti assoluti della scena e la cosa non vi dispiacerà eccessivamente, dato che la maggior parte degli spettatori e ciò che accadrà saranno tutte persone a voi care. Rivaluterete l'importanza della vostra sfera affettiva e vi godrete la serata. In amore chiacchierate i vostri sentimenti per qualcuno. Scorpione A cavallo nato non si guarda in bocca, dice un vecchio detto, e di certo questo vostro atteggiamento non passerà inosservato neanche in famiglia, i quali non si faranno di certo scappare l'occasione per rimproverarvi di assentesmo in famiglia in un certo senso. Vi accuserà di essere insensibili. Anticipate gli attacchi. Sagittario Dovrete prendere in mano la situazione. Raccogliete tutto il vostro coraggio e affrontate chi vi sta ostacolando. In amore sentirete crescere una passione incontrollabile. Capricorno Dovrete dar retta al parere dei più piccoli. Se ascolterete con attenzione ciò che dicono i bambini, vi si schiuderà un mondo di idee e scoprirete una nuova prospettiva. Non sarà un buon momento per prendere iniziative sul lavoro. Lasciate che siano gli altri a farsi avanti e aggregatevi a giochi fatti. In amore un litigio verrà addolcito dalla riconciliazione. Acquario Qualche piccolo intoppo rischierà di farvi ritardare. Sarà bene essere previdenti e anticipare i tempi per prevenire la possibilità che nascano tensioni. Una scelta in ambito lavorativo potrebbe ripercuotersi su alcune scelte personali, per cui fate attenzione. In amore sarete pronti a rinunciare a qualcosa di importante. Pesci State in guardia, qualcuno vorrà scoprire di più su di voi. Dite solo lo stretto necessario. In amore si prospetta una comoda soluzione. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.it L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei.